Il Castiglione inciampa in casa nel match clou contro la vicecapolista vertovese al termine di una partita con poche emozioni. I Mastini ritrovano Valotti e Manbrin al rientro dopo le lunghe squalifiche. La prima occasione degna di nota è degli orobici con Granillo che al quarto d'ora rientra dal fronte di sinistra e chiama segna alla grande risposta. Al diciannovesimo si vedono i padroni di casa con Valotti, tunnel a palamini e suggerimento a centroarea dove però nessuno è pronto ad approfittare dell'assist. Non ha miglior fortuna un'altra azione personale di Valotti al trentanovesimo. Cross in mezzo ma i compagni non riescono a deviare verso la porta. Nella ripresa le emozioni si diradano e al settantaquattresimo passano gli orobici. Scambio veloce tra Zanga e Ballabio, quest'ultimo restituisce palla al compagno che aggira la difesa loisiana e insacca alle spalle di segna. I Mastini reagiscono ma ci provano solo al quarto di recupero. Con un tiro da fuori di Filippo Lauricella che termina alto.